SIGLA RONDO! SIGLA RONDO! AAAAAA! Inquadra! Inquadra lui! OOOOOOO! Se venga sempre sai buono e buono! Eh! Quale? La sai lunga! Facciela! Facciela! E tre! E due! E uno! Siamo pronti col video! C-Certamente! Vai vai! In modalità notturna! Vai vai vai! Via! Why boys! Why boys! Why boys! Why boy! Yep! Applausi! Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.